Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte! Allora, eccoci ritrovate in un nuovo video, video sui prodotti finiti. Visto che sono prodotti finiti nell'arco di due mesi o anche qualcosina di più, ho tantissime cose da mostrarvi e vi anticipo di mettervi comode perché sarà un video lungo, ma i miei video sui finiti sono sempre eterni, quindi ormai sarete abituate. Allora, come si può notare, il nuovo look, che tra l'altro devo anche lavarli i capelli, quindi non badate se non sono proprio perfetti, ho tagliato i capelli ma sicuramente l'avrete visto su Instagram perché ho messo una foto, poi ho messo una foto anche qua su YouTube, quindi eravate già aggiornate, insomma, comunque è il primo video che faccio con questi capelli, quindi niente, insomma, non penso che la cosa vi cambi la vita, però devo dire che mi piace questo taglio, mi piace come mi sta e ci voleva, secondo me ci voleva soprattutto ora con il caldo, non ne potevo più dei capelli lunghi, troppo tempo per lavarli, per asciugarli, per tenerli bene, quindi mi sento molto più leggera, molto più fresca e tanto poi a me crescono talmente in fretta che io già quest'autunno avrò già i capelli lunghi, sicuro. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate, siete state carinissime comunque su Instagram, mi avete fatto un sacco di complimenti, cioè, troppo, veramente troppo troppo carine. Allora, direi di iniziare subito con i bagno doccia che ne ho un bel po' da farvi vedere, ovviamente non li ho aperti tutti insieme, avevo bagno doccia più recenti, un po' più vecchi, li ho terminati e via. Allora, vado con un bagno doccia di Neutromed Miele Elixir, profumo di gardenia bianca con estratto di miele, questo prodotto qui, ha tra l'altro fatto anche le unghie nuove stamattina, questo prodotto qui, sono 250 ml, lo trovate tranquillamente nella grande distribuzione, l'avevo preso da Caddis in offerta, piaciuto moltissimo, è un bagno doccia dalla consistenza in gel, che ha all'interno anche estratto di miele, devo dire che però non profuma tanto di miele, io sento molto di più il profumo fiorito della gardenia bianca, molto molto buono, delicato, un buonissimo profumo, mi è piaciuto, quindi questo potrei anche riacquistarlo. Poi, questo qui di Dove, che è il shower gel indulging ritual, si chiama, con latte da vera e miele, 0% di Sless, questo prodotto qui, che ho acquistato forse sul sito di Notino o sul sito Makeup, non ricordo quali dei due, sono 250 ml di prodotto, l'avevo acquistato perché è una profumazione che io non trovo nei negozi, insomma, quindi tipo Tigotà, Acqua e Sapone, non l'ho mai visto. Allora, come consistenza, sapete che io amo i detergenti per la doccia, insomma, di Dove, mi piacciono tantissimo, hanno una consistenza, anche se questo qui l'ha chiamato shower gel, ma in realtà non è un gel, è proprio una crema, è molto cremoso, una crema anche bella corposa, che veramente va a detergere benissimo, ma estremamente delicata sulla pelle. Ecco, l'unica cosa, non mi è piaciuta tantissimo la profumazione, perché mi aspettavo qualcosa che mi ricordasse più appunto il miele, latte d'avena, quindi una cosa un po' più dolce, quel profumo un po' più di pulito, di coccola, invece no, era un profumo che... boh, non so neanche dirvi a cosa mi rimandava, sinceramente, però non mi è piaciuto particolarmente, insomma, mi aspettavo di più. Il prodotto in sé è ottimo, quello di sicuro. Comunque, terminato. Poi, sempre come mega bagno doccia, ho finito questo qui di Avon, come si chiamano? Bubble Bat, dovrebbero chiamarsi. Sono quelli giganti, da 500 ml. Questo qui era Goodbye Tension, quindi ciao ciao, arrivederci tensione. Ma, allora, non male, io l'utilizzavo quando facevo il bagno appunto nella vasca, perché fa tante bolle, quindi è carino, insomma, da vedere. Non male, la profumazione è abbastanza... nulla di che, ecco. Sa di pulito, classica profumazione da bagno doccia, ma nulla di entusiasmante. Non credo che li ricomprerò, perché costano poco. Stavo per dire costano tanto, no. C'è tantissimo quantitativo, io dopo un po' mi stufo. Questo qui, contate che ce n'è ancora un goccino, ma lo userò come detersivo, sì. Detergente per le mani. E mi durano troppo, dopo un po' io mi stufo. Ce l'avrò da tipo un anno e mezzo, questo. Quindi non lo ricomprerò, ecco. Comunque, non sono male, diciamo così. Poi, andiamo avanti con altri due. Poi ho finito. Allora, uno dei tesori d'oriente, l'olio doccia con oli di amla e sesamo, settificante. Questo prodotto qui, 250 ml, preso sempre da Caddis in offerta. Allora, questo prodotto mi è piaciuto per la consistenza, mi è piaciuto per come comunque lasciava la pelle, per come lavava. Ora, qui c'è scritto olio doccia, non aspettatevi comunque un prodotto oleoso, perché assolutamente non lo è. È un gel detergente che ha all'interno anche degli oli, però non è che si percepiscono tantissimo sulla pelle. Ecco, dopo un po' la perfumazione è andata a stufarmi. Non so, c'era qualcosa che mi dava fastidio. Comunque, insomma, come prodotto in sé mi è piaciuto. Poi, ultimo prodotto che mi è piaciuto tantissimo è un bagno doccia di Alverde. Un'edizione limitata natalizia, che era quella con l'arancia bio, questa, che in realtà sembra quasi un'arancia candita, perché è molto molto dolce, ma anche agrumata. È una buonissima profumazione molto invernale natalizia, sono 250 ml di prodotto. Un detergente in gel, un gel veramente delicato, lavava ma non aggrediva assolutamente la pelle. Molto molto buono. Di questo prodotto qui, di questa linea qui, ho utilizzato anche il burro corpo, che mi è piaciuto tantissimo. Veramente un buon prodotto. Con il bagno doccia abbiamo terminato. Allora, sempre per il corpo, ho finito, vediamo un po'. Uno scrub che mi è piaciuto tantissimo, ve ne ho già parlato, lo scrub di Dove, con noce di macadamia e latte di riso, dovrebbe essere. Questo prodotto qui, che ho acquistato sul sito appunto Makeup, magari vi lascio il link nell'info box, perché io non riesco assolutamente a reperirlo nei negozi fisici, insomma. Riesco ogni tanto a trovare i kit, kit tipo regalo, dove all'interno abbiamo la mosdoccia e lo scrub. Però lo scrub in sé io non l'ho ancora mai visto. Mi è piaciuto tantissimo, in passato ho provato anche quello con il melograno e il burro di carité, se non sbaglio. Buonissimi, ragazzi. Allora, sono degli scrub cremosi, quindi non aspettatevi uno scrub simile Geomar, per capirci, perché assolutamente è tutta un'altra cosa. Sono cremosi, ma hanno all'interno tantissimi, tantissimi granellini, molto molto sottili, che danno questo effetto quasi sabbioso e vanno a esfoliare benissimo la pelle del corpo, ma rimangono veramente delicati. Hanno anche quasi un'azione idratante sul corpo, avendo comunque la componente cremosa. Hanno, questo qui poi ha un profumo buonissimo, veramente buono. Sa proprio di latte, è un profumo molto molto piacevole, ma rilassante e comunque delicato. Buonissimi, se per qualche motivo dovete fare un ordine, insomma, su questo sito, su Makeup, io vi consiglio di buttarcelo dentro se vi serve uno scrub, insomma. È vero che non costa pochissimo, perché costa intorno ai 6-7 euro, però secondo me ne vale la pena, insomma, per provarlo. Veramente, veramente buono, ottimo questo scrub, buonissimo. Poi passiamo invece all'idratazione per il corpo, finito di Delidea, il balsamo corpo idratante con albicocca e mango. Questo prodotto qui, che ho acquistato ovviamente da... ovviamente no, ho acquistato da Tigotà, vedete, è terminato. Allora, adatto secondo me per il periodo non freddissimo, perché io comunque in inverno, avendo una pelle molto secca, soprattutto sulle gambe, ho bisogno proprio di un burro compatto, bello oleoso, bello untuoso direi quasi. Ho proprio bisogno di una cosa molto più nutriente. Questo qui comunque va benissimo, secondo me, per il periodo caldo, per l'inizio anche del caldo. Infatti qui dice che è idratante, non dice nulla sul nutrimento, insomma, quindi ci sta. Mi è piaciuto, mi è piaciuto perché appunto va ad idratare la pelle, non fa eccessiva scea bianca, un pochino, ma insomma poi si massaggia in modo molto rapido. Lascia la pelle molto idratata, l'unica cosa mi aspettavo una profumazione più fruttata, più estiva, comunque albicocca e mango. Mi aspettavo di sentirla l'albicocca e il mango, invece no, insomma la profumazione lascia un po' a desiderare. Però come prodotto in sé è molto molto valido, quindi ve lo consiglio, insomma, anche per questo periodo. Poi ho finito due oli per il corpo, allora uno è l'olio Cocco Slim di Hello Body, questo prodotto qui. Sono 100 ml di prodotto, io l'ho acquistato sul sito ufficiale, ovviamente approfittando del 50% o 60% di sconto, perché a prezzo pieno mai nella vita. Questa è una miscela di oli, adesso vi dico che cosa contiene. Eccolo qui, al primo posto l'olio di avocado, poi l'olio di cocco, poi l'olio di sesamo, l'olio di ricino, l'olio di mandorle dolci, il profumo, il tocco ferolo e all'ultimo posto l'olio di rosa canina. Quindi è un'ottima miscela di oli, è un olio né troppo leggero, ma né troppo denso, corposo, insomma, comunque si stende benissimo sulla pelle. Lo utilizzo sempre a pelle bagnata, appunto dopo aver fatto la doccia. Mi è piaciuto molto, devo dire che questo è un prodotto molto molto valido, lascia la pelle morbida, la lascia nutrita, è proprio levigata, bellutata, insomma, al tatto è proprio molto molto più liscia, molto più morbida, la sentite che è più bella. Un buon prodotto, sinceramente mi è piaciuto, anche molto elasticizzante, buono, un buonissimo profumo di cocco, è un profumo che non permane tantissimo sul corpo, però insomma è piacevole da utilizzare sotto la doccia. Ecco, molto molto carino come prodotto. Per tanti prodotti che ho acquistato di Allobody, che non mi sono piaciuti e che secondo me sono estremamente sopravallutati e estremamente pubblicizzati, devo dire che questo invece merita, buono. Poi, altro prodotto che, altro prodotto, altro olio corpo è di Erbolario, non guardate la confezione perché fa schifo, ma adesso vi spiego anche perché. Si tratta dell'olio vellutante per il corpo con estratto di foglie di lime e armonie di legni. Questo prodotto qui, vedete che è tutto rovinato perché tenendolo in doccia, diciamo che questa confezione non è proprio l'ideale, perché va praticamente a sgritolarsi, a perdere tutte queste cosine verdi, che poi vi rimangono anche sul corpo una meraviglia. Quindi per questo il pack lo boccio, ma forse non è pensato per essere tenuto sotto la doccia. Comunque io gli oli, gli oli, gli oli, li utilizzo solo in questo modo. Allora, sono, 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 non so, mi sa che 100 ml di prodotto, mi è andato via comunque la scritta con la quantità. Allora, buono, più leggero rispetto all'altro olio di Hello Body, quindi più idratante, diciamo così, anche se non è proprio il termine adatto da utilizzare quando si parla di oli. Però non è un olio estremamente nutriente, ecco, già dà proprio un nutrimento molto, molto blando, molto leggero, che per carità, secondo me in estate va benissimo. Profumazione molto fresca, molto buona, molto estiva, quello assolutamente sì. Ecco, costa tantino, io l'avevo preso con un 30% di sconto e l'ho pagato intorno ai, forse 10 euro. Però, ecco, capite bene che io comunque utilizzando tantissimo l'olio come tipologia di prodotto sotto la doccia, ne faccio fuori veramente una quantità industriale. Quindi non lo riacquisterei per il prezzo, ecco, anche perché non è un olio che mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato la pelle, quindi secondo me non ne vale la pena. Se però avete uno sconto, volete provare qualcosa di erbolario, insomma, vi piace come marchio, come idea, ve lo consiglio perché il prodotto è buono in secco. Io faccio proprio un discorso sul prezzo, che secondo me non ne vale la pena. Comunque, il prodotto in sé mi è piaciuto. Poi, andiamo con, sempre per il corpo, allora, ho finito questa fantastica crema per il seno, di cui vi ho già parlato mille volte, che ho costato su Amazon, magari vi lascio il link nell'info box. Costa tantino, perché sono 50 ml e dovrebbe costare intorno ai 16 euro, 16-17. Ma ne vale la pena. Aspettate che ho anche il cartoncino. Allora, ha un inci ricchissimo, veramente ricchissimo. Se andate sul mio Instagram, ho pubblicato una foto con anche l'inci di questo prodotto. E' buonissimo, ragazze. Ha, praticamente, un sacco di estratti che vanno proprio a elasticizzare, a rendere il seno più tonico e anche, volendo, più volumizzato, più pieno. Ecco, io non l'ho preso per quello, ma l'ho preso proprio perché volevo qualcosa che, sempre per il famoso discorso, prevenire è meglio che curare. Ho iniziato a utilizzare questi prodotti per un futuro, ecco, diciamo così. Non credo nei miracoli, però sicuramente tenendo la zona idratata, nutrita, utilizzando prodotti anche con attivi che vanno a elasticizzare, a tonificare, sicuramente qualcosina fa, ecco. Ehm, buona, molto molto buona, un buonissimo profumo fiorito, che sa di gelsomino, un profumo bello intenso, quindi se non dovessero piacervi le profumazioni che si fanno sentire anche dopo, perché poi la sentite anche su, ad esempio, metto il pigiama, magari la utilizzo la sera, mi metto il pigiama per andare a dormire, il giorno dopo, e i giorni dopo, il pigiama prende questo profumo. Ehm, a me non dà nessun tipo di problema perché lo trovo buonissimo. Ehm, buono, veramente un buon prodotto, non si assorbe all'istante, ma va massaggiato, ma è giusto anche così, perché comunque questi prodotti, soprattutto in certe zone, funzionano ovviamente abbinati a un massaggio. Qui dice un paio di minuti, io lo facevo anche di più, se avevo tempo, insomma, non mi pesava la cosa, anzi, se bisogna farlo si fa. Ehm, niente, buono, veramente un buon prodotto, ma ve ne ho già parlato, quindi non mi dilungo ulteriormente, che se no qua non ce la caviamo più. Mamma mia, sono già a un quarto d'ora. Allora, eh, altro prodotto per il corpo, questa acqua spray alla rosa di Balea, presa da DM, eh, ne ho altre due o tre versioni nelle scorte da utilizzare, ottima per l'estate, sono 150 ml di prodotto, ehm, non vi aspettate che abbia all'interno l'acqua di rosa perché non le ha. E' un'acqua profumata, insomma, rinfrescante da utilizzare così all'occorrenza, eh, per darvi un po' di, eh, energia, una sorta di acqua rivitalizzante. Eh, molto molto carina, una buona fragranza di rosa molto fiorita, io ho anche quella al gelsonino da provare, quella al cocco mi sembra. Sono carini per l'estate, poi costano veramente poco, non ricordo se 99 centesimi o 1,99 euro, però un prezzo molto fattibile. Poi ho finito un sapone per le mani, eh, pino silvestre, sapone liquido con antibatterico, mora e muschio, 500 ml, ehm, buono, un sapone per le mani che faceva il suo, non seccava, un profumo fruttato, andava bene, insomma. Poi, per le mani sempre la crema dell'erbolario Danza di Fiori, eh, questa qui, eh, questa qui, allora, in realtà l'ho utilizzata un po' per le mani, ma io sono pigrissima per quanto riguarda la cura delle mani, eh, le creme non riesco a tollerarle, tollerarle, perché molto spesso le risudo, eh, mi dà un po' più fastidio, quindi io non sono una che, so che si sbaglia, però non curo tantissimo le mani. Quindi, vabbè, poi in estate ancora di più, non ce la posso fare proprio a sopportare prodotti cremosi, oleosi sulle mani. Comunque, l'ho utilizzata appunto sia per le mani, magari a quell'inverno, quando veramente avevo le mani secche e dovevo per forza mettere qualcosa, e, eh, se non l'ho utilizzata l'ho finita per il corpo. Allora, buona, eh, una buonissima profumazione, questa linea ha veramente una buona profumazione, ma avevo già utilizzato anche il bagno d'occia, la crema per il corpo, quindi la conoscevo. Ehm, come crema a mani è una crema che comunque non lascia la pelle eccessivamente unta, si assorbe anche rapidamente, facilmente, lascia un buonissimo profumo e è molto idratante, eh, nutriente. Insomma, durante l'inverno, quando avevo le mani magari un po' spaccate al lavoro, col freddo, ehm, andava a risolvermi la situazione in una notte, quindi, suppongo che sia un buon prodotto, ecco. Io non ho molti metodi di paragone tra crema e mani, perché non ne utilizzo, quindi. Poi, ehm, andiamo con corpo due amati, amatissimi, ehm, deodoranti di Dove. Questi qua sono i miei preferiti, quello la pera e aloe, quello la mela e tè bianco, se non sbaglio. Sapete che li adoro, è vero, contengono sali d'alluminio, però sono gli unici prodotti che mi tengono tranquilla e sicura tutto il giorno. Quindi io li acquisto e mi ci trovo benissimo. Sono senza alcol, quindi va benissimo anche dopo la depilazione. Buono, questo è un profumo più fruttato, più dolce. Questo qui è un profumo, secondo me, un po' più fresco. Eh, tra i due devo dire che preferisco questo, ma tutti e due ottimi, l'efficacia è ottima anche durante il lavoro. Lavoro dieci ore, nove ore. So che se applico questi la mattina io posso veramente andare tranquilla tutto il giorno. Eh, buoni, 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 buoni. Poi, ehm, dunque, due detergenti intimi che mi sono piaciuti. Allora, uno è questo qui di Govi, di cui vi ho già parlato, c'è un capello attaccato. Eh, sapone intimo, rinfrescante e delicato. Sono 250 ml di prodotto alla salvia e melissa. Quindi abbiamo un aspetto un po' più purificante della salvia e la melissa che è un po' più lenitiva, calmante. Eh, 99,5% di ingredienti di origine naturale. Non è un marchio certificato biologico, però tutti i prodotti hanno veramente un inci. Ottimo, direi impeccabile. Buono, un detergente intimo molto molto liquido, ve l'ho già fatto vedere in altri video, quindi avete visto anche la consistenza, ce n'è ancora un goccino. È veramente liquidissimo, fa pochissima schiuma, deterge in modo estremamente delicato la zona intima, anche durante il periodo del ciclo. È leggermente, appunto, purificante e rinfrescante, ma non dà l'effetto ghiaccio, cosa che io odio. Dà solo una leggera sensazione proprio di freschezza. Buono, 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 non mi ha mai causato bruciore. Ottimo, veramente un detergente purificante, ma delicato. Buonissimo, ve lo consiglio. Altro prodotto sempre che mi è piaciuto, questa volta, l'avevo provato anche qualche anno fa e invece non mi era piaciuto tanto. Non so come mai, non so se abbiano cambiato formulazione, boh. Deteggente intimo, rinfrescante, con menta e malva bio di Sien Nezzur, quindi la linea biologica. La trovate tranquillamente da Lidl in linea permanente, costa pochissimo. È un prodotto, appunto, certificato BIOS e vegano, quindi ha un ottimo inci. Appunto, 300 ml di prodotto, molto buono anche questo, un gel meno liquido rispetto all'altro, quindi un po' più di consistenza. Lavava benissimo la zona, non era aggressivo, assolutamente. Anche questo, avendo all'interno la menta, dava un leggero effetto rinfrescante, ma non effetto ghiaccio, tipo chili, ad esempio, che io non posso sopportarlo, neanche quello della Lactacid, proprio fresco, la menta, anche quello lì mi sembra, ha dentro il mentolo, ma io non lo tollero. Questo invece non mi dà assolutamente fastidio. Buono, ragazze, se volete un detergente intimo con un buon inci, che costa veramente pochissimo, reperivere, insomma, facilmente da Lidl, ve lo consiglio. Vi consiglio anche l'altra versione, che addirittura mi piace di più, perché lo trovo più emolliente, più idratante, alla calendula, se non sbaglio. Comunque, buono anche questo. Poi, corpo, vabbè, vi faccio vedere al volo, questi sali da bagno al profumo di latte di mandorla ai fiori di Balea, sono delle dosi, insomma, da un utilizzo, 80 grammi, che si mettono nella vasca quando fate il bagno. Questo qui era una polvere, mi piacciono, costano poco. Comunque, all'interno, devo dire che qualcosina hanno, perché hanno un po' di olietti, un po' di estratti, e vanno a colorare l'acqua, a profumarla, ecco, sono carini, secondo me. Per il prezzo che hanno, si possono provare ogni tanto, ecco, io li acquisto. Ok, non so più dove mettere le cose, mettiamole qua. Allora, poi, nulla, andiamo con prodotti per il viso, ho un piede che non me lo sento più. Allora, detersione per il viso, ho finito questo prodotto fantastico che mi è piaciuto tantissimo, l'olio micellare detergente della linea Purcamill di Yves Rocher. L'ho utilizzato per la doppia detersione, un olio dalla consistenza leggera, non troppo puntuoso, non troppo corposo, che si fa fatica poi a sciacquare, assolutamente no, ma molto efficace, struccava benissimo, era delicato, buono ragazze, un buon buon prodotto, ve lo consiglio tantissimo se anche voi amate la doppia detersione. quindi utilizzare per il primo step un prodotto oleoso e poi andare a utilizzare la mousse, questo assolutamente ve lo consiglio, molto molto buono. Poi, ecco, parlando di mousse, ne ho terminate due, mamma questa è untissima, c'è qualcosa che ha perso, bene. Allora, questa è veramente economicissima, 2,50€, è la mousse detergente alla vitamina E e rosa biologica, 150 ml di Primark, fantastica, mi è piaciuta tantissimo, è una mousse molto molto soffice, che fa quello che deve fare, ottima anche appunto per la doppia detersione, perché è molto efficace, va a togliere tutti i residui di olio, di unto, buona, 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 ve ne ho già parlato nel video sulle 6 mousse a confronto, magari ve lo linko da qualche parte, o ve lo lascio nell'info box, quindi questa qui ve la consiglio tantissimo, poi per il prezzo che ha, aspettate che la metto nella borsa, se no qua faccio danni. Mousse molto 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 più costosa, che invece non mi è piaciuta, è la mousse detergente per il viso di Allobody, cocco fresh, scusate ma sto digerendo, ho mangiato lo yogurt prima, che bello, in diretta così. È la mousse detergente detox, dovrebbe essere, comunque questa famosissima, famosissima, cacchieratissima, tutto quello che volete, ma a me non è piaciuta per niente. Intanto ha una consistenza che si smonta, non è bella soffice, bella pannosa, come piace a me, quindi già per questo insomma la boccio, perché per 30 euro ragazzi, 30 euro a prezzo pieno, cioè non esiste, ma non esiste proprio, ma neanche a metà prezzo sinceramente, io proprio non ve la consiglio questa. Quindi la consistenza non mi è piaciuta, perché si smonta subito a contatto con la pelle umida, almeno su di me ha fatto così, anche se in giro sento meraviglie, però su di me assolutamente no. Quando avevo la pelle magari un po' più stressata, un po' più stanca, più reattiva, mi bruciava, quindi altra cosa a suo sfavore. No, no ragazze, non mi è piaciuta, non mi sentivo il viso bello pulito quando la utilizzavo, ma avevo sempre questa sensazione di sì, e allora? Ok, adesso che ti ho utilizzato ho bisogno di utilizzare un altro prodotto, perché tu non mi hai fatto tutto il lavoro di struccaggio. No, non ve la consiglio assolutamente, l'unica cosa positiva era il profumo al cocco. E ho detto tutto. Poi andiamo avanti, sempre per il viso ho finito questo gel acido ialuronico di Nakomi, idratante per tutti i tipi di pelle, questo prodotto qui di cui ho perso il tappo, 50 ml di prodotto, l'ho acquistato su Maki Beauty, perché Nakomi dovete acquistarla su Maki Beauty, perché costa veramente meno della metà rispetto ad altri siti. Buono, un gel molto molto idratante, con un leggero effetto tensore anche sulla pelle, un leggero effetto proprio rimpolpante. Rimpolpante, oh mio Dio. Vabbè, avete capito quella roba lì? Un effetto quasi tensore, ovviamente momentaneo, però comunque insomma l'acido ialuronico presente effettivamente si faceva sentire. Estremamente leggero, adattissimo secondo me per il periodo estivo, per il periodo caldo, soprattutto perché ha una pelle grassa, una pelle mista. Molto molto buono, assolutamente, lo utilizzavo quasi come siero, idratante, leggero, fresco, si assorbiva subito, lasciava la pelle idratata, buono, buono buono, consigliatissimo. Poi, le maschere le tengo per ultime. Allora, dentifricio, ho finito questo qui aloe gel, dentifricio sbiancante di Equilibra, mi piace tantissimo, ha un buonissimo sapore, molto rinfrescante, buono, ma ve lo faccio vedere ogni tanto, insomma, nei video. Poi, per i capelli, allora, shampoo, uno, che non mi è piaciuto, anche questo qui ve l'ho già fatto vedere, quello volumizzante di Vrochet, non ci siamo, non mi è piaciuto per nulla, una consistenza in gel, ma un gel troppo compatto, che praticamente non si, non andava mai a rottura sui capelli bagnati, cioè, rimanevano i pezzi, terribile, terribile, in più l'ho trovato anche abbastanza aggressivo, ma, nonostante questo, non mi lasciava i capelli puliti per più giorni, quindi, totalmente bocciato, in tutto proprio, non mi è piaciuto per nulla. Poi, allora, due balsami, uno economicissimo, buonissimo, uno costosissimo, pessimo. Allora, balsamo, carité, luppolo, ai bio, fortificante, è un prodotto biologico, certificato IAB, vegano, nickel tested, non testato su animali, a tutte le certificazioni del mondo, fa parte della linea Qualicos, quindi è prodotto da Qualicos, lo trovate da Tigotà, è un brand che costa pochissimo, io questo l'avevo preso in offerta, se non sbaglio, 2,99 euro, sono 250 ml di prodotto, un balsamo ottimo, ragazze, un piccolo prezzo per un balsamo veramente efficace, che va a districare benissimo i capelli, una crema abbastanza corposa, che si distribuisce benissimo sui capelli, quindi non scivola, non scende, non cade, rimane lì, si aggrappa proprio, va a togliere tutti i nodi, va a districare benissimo i capelli, va anche a nutrire, va anche a idratare, è un balsamo fantastico, io ve lo consiglio tantissimo, per il prezzo che ha, poi, insomma, capite bene, che vale proprio la pena provarlo, un buonissimo profumo, che mi ricordava un po' il cocco, un profumo che permaneva anche sui capelli, buono, 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 ve l'ho già inserito in vari video dei top e flop, quindi, ovviamente, come i top, quindi, assolutamente, se andate da ticotà, andate a comprarlo, perché è buonissimo, altro prodotto, invece, secondo me, da cui stare proprio alla larga, perché non ne vale la pena, si tratta di un prodotto di Freshly Cosmetics, il balsamo, appunto, riparatore, con olio di cocco, tante, tante cose belle, scritte, però, pessimo, almeno sui miei capelli, proprio terribile, intanto, la prima cosa, qui c'è tutta questa bella, immagine del cocco, perché, appunto, all'interno ha l'olio di cocco, ma sa di pompelmo, quindi, già qui, sono rimasta delusissima, perché mi aspettavo un prodotto profumato al cocco, comunque, insomma, ci si può anche passare sopra, allora, è un balsamo in crema, meno corposo rispetto all'altro, quello di iBio, che non fa nulla, ragazze, ma nulla, ma forse fa proprio qualcosina, ha forse un leggerissimo potere idratante, ma proprio leggero, leggero, non ci siamo, non districa, non togli i nodi, non vi lascia poi i capelli proprio belli, anche al tatto, belli morbidi, no, no, costa tanto, perché costa intorno, se non sbaglio, i 15 euro, se non di più, per quanto mi riguarda, io l'ho acquistato ovviamente con i miei soldi, sono soldi buttati, pessimo, veramente, inutile come prodotto, non ve lo consiglio, io ho provato tre cose, di Freshly Cosmetics, e tre cose non mi sono piaciute, quindi non penso che darò un'altra possibilità a questo brand, poi, sempre per i capelli, mini taglia dello shampoo a secco di Batiste, questo qui è l'original, 50 ml, questo qui l'ho acquistato sempre sul sito Makeup, ottimo, allora, come vi dicevo, anche negli altri video, non è un prodotto che io utilizzo, al posto dello shampoo classico, però, avendo i capelli, che si sporcano facilmente, non ho sempre il tempo di lavarli, e averli perfetti, magari la mattina, prima di andare al lavoro, non sono proprio, proprio, insomma, bellissimi da vedere, vado con un prodotto del genere, e io mi ci trovo benissimo, perché veramente vedo la differenza, diciamo che riesco a tenere un altro giorno, prima di fare il lavaggio, vero e proprio con lo shampoo, buono, adesso ho acquistato un prodotto da ADM, perché costava molto molto meno, rispetto a questo, che non è economicissimo, però se vi interessa Batiste, ho visto che ce l'hanno anche da Tigotà, ecco, il formato grande, penso da 250 ml, ora non so di preciso, non costa pochissimo, perché siamo intorno ai 7-8 euro, forse 9 euro, quindi non costa poco, però secondo me è molto molto valido, insomma, come prodotto. Poi, altro prodotto, questa tipologia di brosce, mi piace tantissimo per i capelli, si tratta degli aceti da risciacquo, questo qui è quello purezza, per capelli grassi, con ortica antisebo, sono 150 ml di prodotto, e non hanno siliconi all'interno, qua dice che ha il frutto di agave, per riattivare la microcircolazione del cuoio capelluto, comunque è un prodotto che va applicato sui capelli lavati, prima dell'ultimo risciacquo, quindi applicate questo, fate agire, e poi fate l'ultimo risciacquo, io noto tantissimo la differenza quando lo utilizzo, perché veramente, è quasi come se avesse un potere condizionante sui capelli, ve li va a rendere morbidissimi, va a togliere il crespo, è un prodotto fantastico, ho utilizzato in passato anche quello con l'aceto di mora, o di lampone, comunque quello rosso, buonissimo anche quello, con un buonissimo profumo, adesso ho l'utilizzo, quello detox, ottimo anche quello, devo dire che non ho notato differenze tra le tre tipologie, perché c'è appunto questa purificante, quella all'aceto di lampone, che non mi ricordo sinceramente che funziona, ne l'abbia, e quella appunto detossinante, che ho adesso in uso, l'effetto su di me è uguale, di tutte e tre, assolutamente, non ho notato magari cambiamenti, insomma non ho notato che questo andava a purificare, che l'altro andava, no, però ha un effetto ottimo, veramente un buonissimo, un buonissimo, un buonissimo risultato, io ve lo consiglio tantissimo questo prodotto, e ho notato anche che va a enfatizzare proprio la lucentezza del capello, poi, prodotti per il viso come maschere, non ne ho fatti tantissime, devo dire perché sto utilizzando quelli in tubetto, in crema, comunque ho fatto questi cerotini di Balea, questi li ho fatti io, li ho fatti anche il mio ragazzo, quelli per i punti neri, non mi sono piaciuti, intanto quando poi andate a rimuoverli, si spaccano tutti, vi rimangono dei residui di cerotto sul naso, sul mento, non è proprio il massimo, e poi non mi andavano a togliere praticamente nulla, quindi non ve li consiglio insomma questi, no, non mi sono piaciuti, poi ho fatto la maschera al carbone attivo di equilibra, purezza naturale, maschera viso detox, con 20% di aloe vera, carbone vegetale, estratto di scorza di limone, 97% di origine naturale, questa mi è piaciuta, è una maschera appunto in tessuto nera, qua dice che contiene acido ialuronico alto peso, acido ialuronico medio peso, e quello a basso peso, bicierina vegetale, vitamina E, scorza di limone, complessi di attivi illuminanti, oltre al carbone attivo, l'aloe vera, insomma è bella ricca, come inci anche, cioè dentro, veramente ha dentro tanti estratti, mi è piaciuta, l'ho trovata però non purificante, devo essere sincera, ho detto, insomma qualche cosa ci dice, l'ho trovata più idratante, semplicemente, andava a idratare, non mi ha lasciato la pelle appiccicosa, cosa per me fondamentale, carina, carina molto, mi è piaciuta, poi maschera invece che non mi è piaciuta tantissimo, perché appiccicava da morire, e io ve l'ho detto mille volte, è una cosa che non sopporto, di questa linea Dermè, che ho preso perché è prodotta praticamente qui, in Trentino, quindi dovevo provarla, c'è tutta la linea con tutti i prodotti, questa qui è la maschera, effetto filler, in bambù, con acido ialuronico, con le cellule staminali vegetali da Gardenia, questa è la marca, vedete, Dermè si chiama, e l'ho presa perché l'avevo trovata in offerta, in un supermercato, ma non mi è piaciuta ragazzi, appiccica tantissimo, peccato, peccato, perché insomma, essendo stata fatta comunque, dove vivo io, era anche carina, ecco come cosa, però no, devo essere sincera, non mi è piaciuta, poi ho finito, anzi ho usato, questa maschera, scusate la confezione che fa schifo, di Barò, Extra Lift Wine Mask, quindi è una maschera con estratti di semi duva bio, coltivata a Barolo, fitoestratto di mirtillo, acido ialuronico, ciclo destrine, maschera viso, effetto lifting immediato, appunto sempre in tessuto, Barò è questa linea qui, di cui vi ho già parlato, allora, questa è una maschera che non mi è piaciuto molto il tessuto, perché l'ho trovato un po' troppo spesso, io preferisco quelli che fanno effetto seconda pelle, però come prodotto mi è piaciuto, l'ho trovato idratante, assolutamente, la pelle era molto morbida, molto levigata, dopo l'utilizzo, buono, una buona maschera, il tessuto un po' da rivedere, secondo me, poi, con i prodotti ho finito, direi, ho un paio di integratori, ah no, c'è anche un profumo da mostrarvi, il profumino che ho finito di Avon, sapete che io adoro i profumi di Avon, questo qui è la mini taglia da 30 ml, dell'Attraction for Air, questo profumo qua, buonissimo, buonissimo ragazze, me lo sono bevuta, praticamente lo utilizzavo tutti i giorni, buono, un profumo molto, molto femminile, molto sensuale, buono, 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 poi persistono, durano, costano poco, vi consiglio le mini taglie, insomma, se non siete sicure, ecco che vi possa piacere la profumazione, perché costano poco, e comunque 30 ml, insomma, vi durano, poi, tre, allora, come sempre, ho terminato i cerotti per dolori, articolari, muscolari, mestruali, 3 più 1 in omaggio, vabbè, insomma, della marca Primiam, Primia, ce la posso fare, sono dei cerotti, con arnica, e artiglio del diavolo, quattro pezzi, con ingredienti vegetali, e senza farmaci, questi qua li trovate anche da Tigota, non di questa marca, però, visto che ci sono, di altre marche, sono delle fasce adesive, che voi mettete, appunto, dove avete dolore, io le utilizzo per i dolori da ciclo, quindi, ve li consiglio, se anche voi, durante quel periodo, soffrite, soprattutto magari, i primi giorni, di dolori, al basso ventre, o, che ne so, alla schiena, insomma, poi ogni donna è a sé, questi qualcosa fanno, vanno praticamente a riscaldare la zona, vanno tenuti su per 24 ore, e, e a me qualcosa fanno, insomma, quindi, ve li consiglio. poi, ho finito questi drenanti, equilibra, drenaggio e metabolismo, erano 14 bustine monodose, per 14 giorni, quindi una al giorno, integratore alimentare, a base di ananas, che contrastano, gli inestetismi della cellulite, eccetera, ma io li ho utilizzati, per bere di più, quindi li mettevo dentro l'acqua, sicuramente, l'effetto drenante c'è, perché poi correvo in bagno, quando lo bevevo, quindi sicuramente funziona, con il sapore, un po' così, così, c'è di meglio, non fa proprio schifo, però c'è di meglio, però in sé è un buon drenante, perché funziona, e poi, come integratore, ho finito questo qua, di Dr. Taffi, per il seno, si chiama, Plus, Plus and Up, seno, 30 compresse, con vitamina B1, B2, B6, glicina, estratti di fieno greco, galega, che non so che cosa sia, e l'uppolo, integratore alimentare, questo prodotto qui, non è la prima volta che lo acquisto, appunto, sono 30 compresse, mi sembra due al giorno, è fantastico ragazzi, io ho proprio notato, l'effetto, rassodante, ovvio che poi utilizzavo, comunque, un prodotto, tipo cremoso, ecco, da mettere sul seno, però questo qui, già da solo fa tanto, fa veramente tanto, vedete proprio, il risultato, la differenza, il seno è più, turgido, proprio più, non dico che sia, più voluminoso, ma, è più sodo, più rassodato, dovete provarlo, secondo me, è un buon buon integratore, appunto, io l'avevo già utilizzato, in passato, in abbinata anche, al suo siero, che è ottimo anche quello, e avevo preso anche la crema, quindi tutta la linea, ecco, la crema un po' così così, però, il siero, abbinato a questo prodotto qui, è veramente un effetto ottimo, soprattutto, ecco, per evitare cadute, eccetera, magari, durante, che ne so, io lo utilizzo adesso, proprio perché, per il futuro, ovviamente, ecco, per tenere la zona più, elastica, secondo me, è un buon buon prodotto, non so, se si possa utilizzare, insomma, che ne so, durante la gravidanza, così, informatevi sempre, per tutti, anche gli integratori alimentari, ve li faccio vedere, proprio così, però, informatevi sempre, chiedete, se avete dubbi, questo qui, l'avevo acquistato in offerta, forse sul sito ufficiale, con un 30% di sconto, perché non costa pochissimo, mi sembra che costi intorno ai 20 euro, 25 euro, comunque, insomma, ve lo consiglio, ho finito ragazze, 40 minuti di video, aiuto, comunque, vi ringrazio, se siete arrivate fino alla fine, niente, io vi saluto, vi mando un bacione, ci vediamo prossimamente, ciao!